Droga, un arresto a Caltanissetta. La polizia sequestra 500 grammi di sostanza dalle prime analisi cocaina e 75 mila euro in contanti. Gela, inaugurata la sede del nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, nota di Italia Nostra, saranno monitorati i settori specifici nei quali la criminalità organizzata è particolarmente attiva. Caltanissetta riprende la distribuzione idrica nella zona sanatorio e nell'arco della giornata in altre aree della città. Assegno unico, date dei pagamenti da luglio a dicembre, nota dell'Inps, intesa con Banca d'Italia per rispondere alle esigenze di certezze dei tempi di erogazione. Bentrovati. Droga, un arresto a Caltanissetta. La polizia sequestra 500 grammi di sostanza dalle prime analisi cocaina e 75 mila euro in contanti. La polizia di Stato ha arrestato un uomo per traffico di sostanze stupefacenti. Inoltre ha sequestrato mezzo chilogrammo di cocaina e la somma di contanti in 75 mila euro. La squadra mobile, nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un uomo per detenzione di mezzo chilogrammo di cocaina, sequestrando contestualmente oltre 75 mila euro di banconote in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. I poliziotti del reparto antidroga, nel corso dei servizi svolti nel capologo Nisseno, nei giorni scorsi, hanno notato un uomo conosciuto alla polizia che entrava più volte nel corso del giorno all'interno di una cantina di una casa del centro storico, nonostante non fosse quella la sua residenza. Dopo la perquisizione seguita dagli agenti all'interno dell'immobile, sono stati trovati e sequestrati 500 grammi di cocaina e 75 mila euro in banconote di diverso taglio. Le prime analisi operate dalla polizia scientifica sulla sostanza sequestrata hanno permesso di confermare che si tratterebbe di cocaina. A margine del controllo, l'uomo è stato condotto in carcere e il denaro è stato versato su un conto deposito del Fondo Unico di Giustizia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari intanto ha convalidato l'arresto dell'uomo e il sequestro della sostanza e dei soldi. La Polizia di Stato quotidianamente effettua la sua attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini e nel caso del traffico e dello spaccio di stupefacenti, la salute degli stessi. Gela, inaugurata la sede del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri. Nota di Italia Nostra, saranno monitorati i settori specifici nei quali la criminalità organizzata è particolarmente attiva. Il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Caltanissetta in Gela è realtà. Nella ex chiesa di San Giovanni, nel comune del Golfo, ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione del reparto Nucleo Operativo Ecologico di Caltanissetta in Gela, un importante presidio territoriale alla quale hanno partecipato autorità militari, civili e religiose. Il Nucleo sarà guidato dal tenente colonnello Michele Cannizzaro. Il regalo che l'arma dei Carabinieri ha voluto fare alla città di Gela e si è voluta fare come nella rappresentanza della tutela ambientale per dare un nuovo presidio di tutela al territorio che è stato fortemente, purtroppo, interessato negli anni, nei decenni pregressi da varie situazioni che ne hanno pregiudicato in parte l'ambiente. Nel corso della manifestazione è stato proiettato il video realizzato al fine di mostrare le potenzialità e i settori di intervento dei nucleo operativi ecologici che operano nel territorio. Questo è un territorio particolare che ha una valenza riconosciuta e quindi anche un'attenzione particolare dello Stato e anche dell'arma dei Carabinieri che ha voluto qui creare questo presidio di alta specializzazione perché il comparto del quale noi facciamo parte, che è il Comando Unità Forestale e Inventari Agroalimentari, ha questa specificità di essere più performante e naturalmente indirizzata a più indagini di natura di polizia giudiziaria molto più sofisticata e naturalmente di contrasto alla criminalità anche organizzata. Noi che cosa vogliamo oggi con questa testimonianza? Dare un senso del significato anche della vicinanza verso le popolazioni, verso i cittadini che abitano non solo Gela ma anche tutto il comprensorio che rientra nella giurisdizione di questo nucleo, che sono le province di Caltanisetta, di Enna e di Ragusa e naturalmente avere come riferimento l'arma dei Carabinieri. Non solo repressione ma anche prevenzione in materia di tutela ambientale, di salvaguardia del territorio e del paesaggio. Sono queste le finalità che hanno condotto l'arma dei Carabinieri a individuare la città di Gela come sede del nucleo operativo ecologico. È stata una scelta ponderata perché il reparto di fatto è istituito a Caltanissetta ma noi naturalmente abbiamo spinto perché venisse collocato in questa prestigiosa sede qui a Gela proprio per il contatto di prossimità ambientale che noi ovviamente cerchiamo di trasmettere in tutto il territorio nazionale. Gela è una realtà particolarmente delicata dal punto di vista dell'ordine della sicurezza pubblica ma ahimè anche dal punto di vista della sicurezza ambientale. Sicurezza ambientale che ha ricadute evidentemente sulla salute dell'uomo e quindi di conseguenza è necessario un approccio sistemico al contrasto dei crimini ambientali. La presenza del NOE era attesa da anni in quello che è uno dei territori più colpiti da reati ambientali e urbanistici. In particolare saranno monitorati settori specifici nei quali la criminalità organizzata e particolarmente attiva, tra questi il ciclo dei rifiuti, gli impianti di trattamento e della filiera di gestione dei rifiuti solidi, urbani e speciali e il ciclo del cemento. Il nucleo operativo ecologico sarà dunque una presenza fissa e importante nel territorio e agirà in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica. Una presenza che ci renda ancora più consolidati, più forti, più attivi nel territorio per difendere quello che è questo bene fondamentale che è l'ambiente del territorio. Oggi possiamo contare su questo reparto specializzato con cui l'arma territoriale lavora in stretta sinergia naturalmente sotto le leggi della Procura della Repubblica. Caltanissetta riprende la distribuzione idrica nella zona sanatorio e nell'arco della giornata in altre aree della città. È ripresa oggi la distribuzione idrica dell'acquedotto Madonio Est dopo l'intervento di manutenzione incontrata a Milicia Santa Caterina Villarmosa, dove la distribuzione era stata sospesa anche a Caltanissetta. La distribuzione è ripresa nella zona sanatorio e nell'arco della giornata riprenderà in tutte le H24 interessate al guasto. Riprenderà a pieno regime la distribuzione ai punti Borgo Petilia e Xirpi e anche il serbatoio San Giuliano dove la fornitura idrica era stata ridotta. Anche a Santa Caterina Villarmosa oggi la distribuzione è ripresa in tutto il comune. Notizia attesa da molti cittadini nisseni che con l'aumento delle temperature hanno visto dimezzato il proprio utilizzo idrico. Assegno unico, dato dei pagamenti da luglio a dicembre. Nota dell'Inps, intesa con Banca d'Italia per rispondere a esigenze di certezza ai tempi di erogazione. L'Istituto Inps e Banca d'Italia hanno concordato le date dei pagamenti da luglio a dicembre dell'assegno unico e universale per i figli a carico, al fine di agevolare le famiglie che lo percepiscono e rispondere alle esigenze di certezza dei tempi di erogazione. Nel dettaglio, in favore dei beneficiari della prestazione già nei mesi precedenti oppure nei casi in cui la rata della prestazione non abbia subito variazioni, i pagamenti saranno effettuati nelle seguenti date. Il pagamento della prima rata della prestazione avverrà di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Nella stessa data sarà accreditato anche l'importo delle rate spettanti nell'ipotesi in cui l'assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito. I beneficiari interessati dal conguaglio saranno comunque avvertiti con mail o sms e potranno verificare il dettaglio del calcolo sul sito Inps o rivolgendosi all'intermediario di fiducia. L'assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie, attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni, a condizione che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea, svolga un tirocinio, ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui. Si è registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego. Verrà attribuito senza limiti di età invece per i figli disabili. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE, valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli, nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. Tributi, convenzione tra Comune e di Caltanissette e centri di assistenza fiscale. Fra pochi giorni l'avvio della fase operativa. Nota dell'assessore comunale Giuseppe Lamenza. È stato presentato nei dettagli ai centri servizi di assistenza fiscale Nisseni, che aderiscono alla convenzione proposta dal Comune di Caltanissetta, il nuovo modello di interazione con l'ufficio Tributi, per conto dei contribuenti attraverso la piattaforma online comunale. L'ufficio Tributi troverà nei centri aderenti un supporto per soddisfare meglio la domanda di servizio. Potranno visualizzare le posizioni contributive di chi vorrà delegarli, inoltrare istanze e dare supporto nei pagamenti. La convenzione consente di filtrare la domanda rendendo più semplice l'elaborazione della risposta dell'ufficio, distribuendone l'afflusso su più punti fisici in città, anche a vantaggio dei contribuenti meno avezzi all'uso degli strumenti digitali. Il servizio sarà operativo dall'ultima decada di luglio presso i centri aderenti. Stiamo attuando una misura piuttosto originale, che è quella del convenzionamento dei CAF. Significa che consentiremo ai CAF di entrare dentro ai CAF autorizzati, che riceveranno delega da parte dei contribuenti loro clienti, di entrare nel sistema comunale per verificare le posizioni e agire per conto dei clienti direttamente. Questo non significa che potranno accedere in modifica o rettifica dei dati. Significa che potranno, diciamo, preistruire, in qualche modo predigerire le istanze del contribuente prima che vengano inviate all'ufficio, in modo tale che tutte queste persone, normalmente persone che non hanno grossa dimestichezza con il digitale, persone anziane o comunque persone che non ce l'hanno, piuttosto che riversarsi alimentare delle code presso gli uffici, che notoriamente non ha una numerosità di personale sufficiente e certamente a breve non potrà averla, potrà così l'ufficio direttamente lavorare queste pratiche in modo molto più snello, una volta che il CAF gratuitamente potrà servirli. Noi quindi stiamo cercando di filtrare la domanda di servizio attraverso questo modo. Consideriamo che l'affluenza presso l'ufficio tributi, grazie anche a delle misure precedentemente prese dopo aver analizzato bene la domanda di servizio, quindi il materialmente cos'è che queste persone andavano a chiedere personalmente, ci siamo resi conto che gran parte della domanda può essere esaudita direttamente da soggetti che non sono gli operatori comunali, che invece potranno dedicarsi, devono dedicarsi alle pratiche più complesse. Insomma, dall'ultima decada di luglio partiranno i CAF che abbiamo iniziato a formare, così anche i dipendenti gli uffici. In questo modo contiamo davvero di rendere molto più fluido finalmente il rapporto fra i tre soggetti, cioè contribuente, ufficio tributi e questo intermediario. Dopodiché apriremo, fatto questo test di qualche settimana, apriremo direttamente anche ai commercialisti e agli avvocati tributaristi. Cimitero Anceli, chiuso la domenica fino al 27 agosto, è polemica sui social, risponde l'assessore comunale Cettina Andaloro. Nei mesi di luglio e agosto il cimitero Anceli rimarrà chiuso come da ordinanza sindacale. In questi giorni, sui social network, i cittadini nisseni si sono lamentati per questa chiusura che vigge già da diversi anni. Ne abbiamo parlato con l'assessore con delega ai servizi cimiteriali Cettina Andaloro. La chiusura delle sole domeniche di luglio e agosto nasce da due fattori obiettivi e oggettivi. Intanto l'ordinanza è stata fatta quattro anni fa e si ripete ogni anno e poi nasce dalle esigenze di far soffrire ai custodi almeno una domenica in questo periodo di estivo, visto che continuano a lavorare. E poi oggettivamente mi sento di dire che è nato le statistiche delle persone che vanno al cimitero. Le domeniche non ci va quasi nessuno ed è anche giusto perché con queste alte temperature è meglio che o ci vanno la mattina presto le persone oppure meglio che non ci vanno. E obiettivamente, statisticamente abbiamo constatato, perché non abbiamo chiuso così perché ci piaceva chiudere, abbiamo chiuso vedendo e studiando tutte le presenze delle domeniche degli anni passati e si è deciso di chiudere. Voglio dire, sono solo due mesi, quindi otto domeniche, già due se ne sono andate. Quindi io dico che bisogna essere anche obiettivi nei riguardi dei custodi delle persone che continuano a lavorare e delle persone che veramente è giusto che la domenica non vadano al cimitero per le alte temperature che ci sono. Poi voglio dire, ho visto dei commenti che le persone sono in ferie, ma io non penso che le persone arrivano la domenica per andare al cimitero. Scusate, ma la penso così. Saranno venute o il giorno prima o la settimana prima. Da lunedì a sabato il cimitero è aperto. Quindi è una polemica, secondo me, che lascia il tempo che trova. Devo dire la verità. Riflessioni sul decreto Calderone. Convegno a Caltanissetta. Interventi di Luca De Combadri e Simone Gagliano. Nei locali della Fondazione Sicana si è tenuto un convegno per discutere del decreto ministeriale introdotto dal ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone. Il decreto mira a introdurre nuove misure in materia di lavoro e ammortizzatori sociali. Il provvedimento prevede una serie di modifiche normative, alcune di carattere strutturale, altre destinate a produrre degli effetti nel 2023 in attesa di trovare le coperture finanziarie che possono garantire il proseguimento del beneficio anche successivamente. Il provvedimento si può sintetizzare nei seguenti punti principali. Taglio del cuneo fiscale, abrogazione dell'arreddito di cittadinanza e snellimento delle informative ai lavoratori. Noi consumenti del lavoro siamo fortemente interessati a questo decreto Calderone e lo chiamiamo Calderone non decreto 48 perché è fatto da una nostra ex collega la quale è saputo cogliere gli aspetti più pragmatici della normativa che interessano noi, il mondo del lavoro, i lavoratori, le aziende e quindi oggi ci accingiamo a questo approfondimento per verificare anche le criticità che ci possono essere, affrontarle e cercare di trovare delle soluzioni ottimali. Affronteremo le problematiche inerenti al decreto Calderone e le problematiche conseguenti alla legge di conversione del decreto stesso che è entrata in gazzetta ufficiale proprio pochi giorni fa. È il primo passo per una grande riforma del lavoro che pone al centro del processo di rinnovamento la possibilità di reintrodurre i giovani nel mondo del lavoro e di dare un impulso propulsivo alla crescita del Paese e in questo crediamo molto. Un momento di incontro per fare delle riflessioni su quello che è il decreto 48, il decreto lavoro che prevede delle misure particolarmente rivolte alle famiglie per aiutarle anche in questo momento difficoltoso. Tra le varie tematiche verranno toccate quella riferita alle modifiche, riferite alla disciplina sul tempo determinato, poi altre misure ad esempio incentivi alle assunzioni, misure di welfare, quindi come abbiamo detto misure sia rivolte ai lavoratori nonché ovviamente alle aziende, con un filo conduttore che è quello riferito alle politiche attive del lavoro, cioè quindi quell'insieme di misure che dovrebbero, dovranno anzi aiutare i lavoratori a ricollocarsi nel mondo del lavoro il più in fretta possibile. La difficile arte del prendersi cura, incontro a Casa Rosetta sull'impegno degli assistenti di familiari. Nei locali dell'associazione Casa Famiglia Rosetta si è tenuto un incontro dal titolo Progetto Car Giving, la difficile arte del prendersi cura. Il caregiver familiare è colui che si prende cura, che assiste e supporta il proprio caro, generalmente anziano, nei momenti di malattia e di difficoltà. Questa figura si destregge ogni giorno tra i vari impegni, cercando di occuparsi non solo dell'organizzazione del proprio caro malato, ma di mantenere l'equilibrio di tutta la famiglia. A loro va gran parte del merito nell'assicurare un buon tenore di aderenza terapeutica, la somministrazione delle medicine, dei pasti, di assistenza sanitaria e di conforto morale. Sono tanti i caregiver che sono presenti sia a Caltanissetta che nella nostra provincia. Già facendo riferimento a quelli che sono i pazienti che sono in cura presso le nostre strutture, arriviamo a un numero che può essere di 400 e più pazienti e chiaramente la maggior parte di essi hanno la necessità di avere un caregiver o hanno un caregiver che si occupa di loro. La giornata di oggi ha l'obiettivo di dare voce a questa figura. Il caregiver è il caregiver familiare, anche il caregiver professionale. Quello che vogliamo in particolare attenzionare è proprio il caregiver familiare a cui stiamo dando voce. La giornata è organizzata in tre momenti, sono tre panel differenti e ognuno di loro si conclude con la testimonianza di un caregiver. Il caregiver è il genitore, il caregiver è la moglie, il caregiver è il marito, il caregiver sono i figli, sono i fratelli. Ogni figura ha delle peculiarità differenti perché differenti ovviamente sono l'età, perché differenti sono le esigenze, perché differenti sono i ruoli nella relazione. E poi ci stiamo occupando anche di noi operatori che nella nostra relazione siamo nella relazione di cura. E dunque come al meglio poter offrire la nostra opera, la nostra attenzione nella relazione con il paziente è già essa stessa. La relazione è un fa parte del processo di cura, va inteso nel processo di cura. La giunta regionale approva l'anticipazione del contributo per l'acquisto di 211 nuovi autobus ecologici da parte di 33 aziende di trasporto pubblico locale della Sicilia. La regione siciliana, lo scorso mese di gennaio, ha stanziato con risorse del PON Infrastrutture 45 milioni per finanziare l'acquisto di 211 nuovi ecobus da parte delle aziende di trasporto pubblico locale dell'isola. Tuttavia l'operazione rischiava di subire un blocco a causa delle difficoltà legate alla tempistica. La convenzione stilata dalla regione con il Ministero delle Infrastrutture imponeva infatti la rendicontazione dell'intera spesa per l'acquisto dei mezzi entro dicembre di quest'anno, ma la consegna dei nuovi autobus da parte delle ditte produttrici non sarebbe potuta avvenire prima di un anno e mezzo dall'ordine e quindi oltre il termine fissato. Per ovviare il problema e rendere possibile la svolta green delle imprese locali di autotrasporto siciliane, la giunta regionale ha approvato la proposta di delibera dell'assessore Alessandro Arricò, che consente all'assessorato alle infrastrutture, mobilità e trasporti di anticipare l'erogazione del contributo all'atto dell'ordinazione dei nuovi autobus, invece che al momento della consegna per la messa in circolazione. E' ciò anche in considerazione del fatto che, data la difficoltà di reperire sul mercato i bus ibridi a metano, il Ministero aveva già autorizzato il rinvio della messa su strada dei bus acquistati con il contributo pubblico, differendo il termine al 15 febbraio 2025. L'anticipazione del contributo sarà subordinato alla presentazione di una fideiossione bancaria o assicurativa, sottoscritta dalle aziende di trasporto, contestualmente all'impegno, al rispetto dei termini previsti dal Ministero, per la messa in servizio dei nuovi autobus. Le aziende potranno così realizzare le gare per l'acquisto dei nuovi autobus ecologici, perseguendo l'obiettivo della Regione, che mira alla riduzione dell'inquinamento, al miglioramento della qualità dei servizi e al potenziamento della sicurezza attraverso il rinduovanimento dei veicoli circolanti in Sicilia. Concorso Ecoattivi. Cittadina Nissena, un'auto elettrica. Premiazione a Palazzo del Carmine nell'ambito dello stesso progetto sono stati assegnati 50 buoni. Premiazione di 50 cittadini a Palazzo del Carmine nell'ambito del progetto Ecoattivi su iniziativa di amministrazione comunale Dasti, l'azienda che si occupa dei servizi di igiene urbana a Caltanissetta. Sono stati consegnati ai vincitori i 50 buoni del valore di 25 euro da spendere nei negozi locali. Una cittadina nissena, Franca Agricoli, ha vinto il primo premio del concorso nazionale Ecoattivi, un'auto elettrica. Stamani ha ricevuto un assegno simbolicamente in attesa della consegna della vettura. Questa è un'iniziativa che già portiamo avanti da diversi anni. Un'iniziativa a livello nazionale, fra cui Caltanissetta, devo dire che è entrata e ha dato ottimi risultati fin dall'inizio. Infatti già questa è la seconda volta in cui i maggiori premi vengono vinti a Caltanissetta. Questo perché? Perché c'è una grossa partecipazione dalla parte della cittadinanza quando riguarda il conferimento dei rifiuti presso il centro comunale raccolta il centro comunale mobile e le varie piattaforme. Perché proprio i punti si accumulano venendo a conferire in queste isole. Andando a fare una differenziata corretta, altri punteggi vengono incendivati nel cammino utilizzando la bicicletta. Quindi incendivando quella che è una mobilità sostenibile in modo da incendivare quello che è l'ecoambiente. Quindi dai rifiuti a tutto l'altro contorno per incendivare appunto l'ecosistema che come ben sappiamo stiamo rovinando. Quindi questa è un'iniziativa per incendivare la cittadinanza a rivedere il proprio modo di vedere l'ambiente circostante. Perché prima di tutto per salvare il pianeta dobbiamo pensare già dal nostro piccolo fino a poi allargare quello che è il nostro pianeta. Da poste anche nel Lisseno un webinar gratuito dedicato alla comunicazione sui social network, evento online rivolto a tutti i cittadini. Si terrà domani 12 luglio in diretta a partire dalle ore 17 il webinar gratuito organizzato da poste italiane di educazione digitale dal titolo Le parole chiave della comunicazione sui social network, dedicato a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità. Il relatore Fabio Aita, responsabile della struttura social media in poste italiane, illustrerà opportunità e caratteristiche delle diverse piattaforme, le strutture dei piani editoriali e gli strumenti utili a massimizzare visibilità e interazioni. Il progetto di educazione digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all'interno della sezione web di poste italiane come podcast, giochi, infografiche e videopillole. La rete mette a disposizione numerosi tool per creare contenuti digitali e basta un semplice smartphone per creare video, grafiche e pubblicare post sulle diverse piattaforme social, ma per trarne il massimo vantaggio, è essenziale comprenderne le logiche di ciascun canale, gli algoritmi che guidano la distribuzione dei contenuti e le strategie per strutturare un piano editoriale massimizzando le strategie di marketing digitale. Le attività possono essere eseguite sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di poste italiane attraverso l'hashtag Educazione Digitale e nella sezione di Storie di Instagram. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di poste italiane, quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione, in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile. Nel fine settimana a Resuttano si è tenuta la prima gara della torta dove i cittadini resuttanesi si sono sfidati per aggiudicarsi il titolo di miglior torta, torta originale e torta sfiziosa. La gara è stata organizzata dalla Proloco di Resuttano con il patrocinio del Comune. L'evento è coinciso con la giornata nazionale delle Proloco. Per loro missione le Proloco si impegnano al 100% per valorizzare e animare il proprio territorio, promuovere i prodotti tipici, tutelare e salvaguardare le tradizioni. Un'azione quotidiana è contrassegnata da un viscerale amore per la propria terra. «Passeggieremo la giornata nazionale delle Proloco il 9 luglio facendo una gara di torte con la dovuta giuria preseduta da Lillo di Fraia, Ottavio Miraglia e un altro signore nel futuro di essere presente per motivi familiari. Sarà premiata la torta migliore, la più originale, la più stuziosa. Poi si eseguirà la degustazione delle torte e seguirà l'ospettacolo formato da due melodi che allieterà la serata per trascorrere una serata insieme con la comunità della Sottanese». «9 luglio festa nazionale delle Proloco, più di mille Proloco in Italia hanno aderito a queste manifestazioni. In Sicilia siamo più di 100 che aderiamo, nella nostra provincia siamo in 12 Proloco con varie attività, esempio Vallelunca camminare è verbo barra è congiunzione vivere, il palio delle torte a buon pensiere, aperture del museo a Mazzarino, aperture delle proloco, facciamo conoscere delle mostre fotografiche in altre località. Resultano questa bella realtà qui questa sera con il palio delle torte, bellissimo, premiati e visionati e diciamo pure sanzionati con un bellissimo giudizio dai grandi maestri della pasticceria di Sena, famosissima nel mondo. Parliamo di rollò, parliamo di cannone, mi ricordo a settembre il record mondiale del cannone più lungo, stupenda, una bellissima serata, un applauso sicuramente meritano i volontari delle Proloco perché noi Proloco siamo volontari, quindi senza scopi di lucro, associazioni non profit, coordinati dall'UMPLI, l'UMPLI nazionale, il presidente dell'UMPLI nazionale è un nostro co-regionale Nino Laspina che si trova in Friuli Venezia Giulia oggi per una grande manifestazione sempre a tema della giornata nazionale delle Proloco. Nissa ha presentato lo staff tecnico del settore giovanile, in carico di responsabile ricoperto da Alessio Sferrazza, ex allenatore della prima squadra bianco scudata. La Nissa, oltre a rinforzare la squadra per la prossima stagione, getta le basi anche per il futuro. Nella sala conferenze dello stadio Marco Tomaselli si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'attività del settore giovanile della stagione 2023-2024. A fare gli onori di casa e a presentare il nuovo progetto giovanile bianco scudato, l'ex tecnico della prima squadra Alessio Sferrazza, il tecnico della squadra Juniors Giacomo Serafini, il tecnico della squadra Aglieri Enrico Massaro e la new entry Salvatore Chimenti che nella scorsa stagione ha difeso la porta bianco scudata. L'obiettivo della Nissa, oltre nel disputare i vari campionati giovanili, sarà quello di coltivare in casa dei futuri calciatori da inserire nella prima squadra, dando seguito alla valorizzazione e la continua crescita del settore giovanile. Una società senza vivaio è un albero senza radici, una realtà senza futuro e la Nissa vuole fortemente dare un futuro ai giovani calciatori e più in generale a tutti i ragazzi del territorio. La Nissa cercherà di diventare una cantera di ottimo livello e la società non ha alcuna intenzione di fermarsi e lavorerà sodo per migliorare ogni aspetto. Alla base di tutto ci sono passione, amore per i propri colori e il desiderio di costruire qualcosa di importante per i ragazzi nisseni. L'attenzione è rivolta ovviamente all'aspetto tecnico, ma non solo, perché si vuole contribuire alla crescita dei ragazzi anche al di fuori del terreno di gioco. Alla base ci sarà un grande lavoro di squadra, di sinergia tra le parti e quello che muove tutti i diretti interessati è la passione. La società bianco scudata ha intrapreso un percorso ben preciso, con obiettivi ambiziosi ma assolutamente realizzabili. Il viaggio sarà lungo e impegnativo, ma quando fatto fino a questo momento è sicuramente soddisfacente e in linea con le aspettative. E tutto, vi lascio al Meteo e alle notizie di pubblico utilità. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con la nostra programmazione. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che ancora una volta sarà bollente in tutta Italia. Alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese, solo qualche temporale sulle zone alpine e prealpine, ma sarà l'unica area d'Italia che vedrà arrivare aria leggermente più fresca. Per il resto temperature davvero elevate. Controlliamo la nuvolosità, tesa sull'Italia, poco o nulla. Nel pomeriggio si forma qualche nuvola sulle zone montuose del nord e in effetti nelle ore pomeridiane, sempre appunto su Alpi e prealpi, qualche breve acquazione si formerà, ma sono temporali di calore sostanzialmente, quindi temporali che non cambiano la condizione meteorologica generale. Quindi in definitiva giornata bollente in tutta Italia, come vi dicevo, temperature oltre 35 gradi all'ombra in pianura padane nelle zone interne del centro-sud, caldo umido anche nelle ore serali e notturne e per il resto, come vi dicevo, solo qualche temporale in montagna al nord. Per sapere comunque nel dettaglio che temperature si registreranno da voi, consultate l'app gratuita di Trevi Meteo.